E adesso vi parliamo un P.O. di Marco Firpo e Gemma Galgani la coppia del Trono Over che è uscita insieme dalla trasmissione. Se ben ricordate Marco e Gemma avevano già avuto una storia pregressa. Infatti dopo che Gemma ha rotto con il fiorentino Giorgio Manetti ha riparato proprio con il bel Marco? Ma le troppe incomprensioni e forse anche qualche intervento esterno di troppo hanno fatto naufragare la coppia. Ma Gemma Galgani non si è data per vinta e nel finale di stagione ha provato di nuovo l'assalto al bel Marco? Assalto che come abbiamo visto in televisione è stato coronato dal successo tanto che i due sono usciti insieme dal programma. Ma adesso come stanno le cose? Come va il loro amore? Come vanno le cose fra Marco Firpo e Gemma Galgani oggi? A giudicare dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto non bene. Marco Firpo infatti è praticamente irraggiungibile. Insomma ha fatto come si dice in Gero fatto perdere le tracce. Mentre Gemma Galgani sta passando le vacanze in famiglia fra i familiari e l'amata sorella. Che dite si ripresenteranno singola uomini e donne? Al momento questa sembra essere l'ipotesi più probabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.